E intervisto a tutti quanti, perché sono le interviste ecumeniche, le interviste ecumeniche, le interviste ecumeniche. Eccoci qua in una nuovissima intervista ecumenica, io sono il Tfresh e oggi sono con M, direttamente dal suo studio. Direttamente dal TxStudio, raga, col primo ecumenico. Archivio ecumenico, con il documento ecumenico riguardante. Oggi mi uccido, oggi mi uccido. Come sempre, saprai da dove inizio. Iniziamo da una foto e ora però scegliamo che foto, scegliamo che foto. Ho già paura. M da piccolo. Eccolo qua, mini M. Tensione, ragazzi. M minuscola. E questa me l'avevo persa, sinceramente. Ah, te l'hai ripersa? Sì. Allora te l'ho ritrovata. Dove l'hai ritrovata? Eh, ricerca e comunica approfondita. Non posso dire altro. Non si spoilerà. Ok, ok. I trucchi del mestiere non si spoilerà. Minchia, questa, mamma mia. Andiamo avanti, proprio a livello cronologico, no? Ok. Però prima ti faccio questa domanda. Tu sei il credente? Cioè, credi nel dio cristiano? Nel dio cristiano no. Ok, non credi nel dio cristiano. Detto questo, mostriamo questa foto. Fatale. Non è possibile. Ma non è possibile. Ma non me la ricordo neanche di averla fatta io, sta foto. M con un prete. Ma non è possibile, raga. Quella è una presa un po' ambigua, però. Vogliamo dirlo. Eh, per quello che ho smesso di credere. Andiamo avanti. E io so e ho scoperto che M si chiamava... No! Lo sapevo! E io ho una locandina. Come cazzo hai fatto? Non è possibile. Cioè, te lo giuro, io pensavo trovassi... Pensavo trovassi roba compromettente, ma così no. Come mai si chiamavi... Prima. Oh mio Dio. Io nel 2018 ho detto, ok, fanno tutti musica, voglio farla anch'io. Non me ne fregavo un cazzo della musica in generale, dei testi. Volevo farlo perché era figo, era swag farlo. E infatti... Ha swagato. Non ha portato risultati per un cazzo di niente. Andavo d'ame qua a Torino. Alla 26 vibes studio. Faccevo veramente schifo, infatti, boh, era qualcosa di insentibile. Però ho detto, vabbè, mi butto. Ho fatto due o tre pezzi. Mi sono rotto i coglioni e ho detto, ok, non fa per me. Ok. Ho continuato a scrivere, quello mi è rimasto. Ma perché io ho sempre scritto, anche su Instagram, sul mio privato scrivo tante frasi. E da lì in poi ho detto, ok, voglio iniziare a capire bene come funziona il mondo della musica. Ma per com'è? Dal punto di vista artistico mi sono messo a studiare effettivamente, ma anche soltanto i metodi di scrittura. Ho letto tantissimo. Ok. E quindi ho, insomma, iniziato un percorso vero e proprio poi dal 2021. Quali sono stati i tuoi punti di riferimento, se li hai avuti, che ti hanno spinto, no, a iniziare seriamente, no? Ok. A fare musica. Allora, io sentivo un botto di roba su SoundCloud e come artist invece a livello internazionale la mia prima fonte di ispirazione è stato Kanye West. Ascoltavo la roba che faceva lui e dicevo, ok, un pazzo, un genio. E ho iniziato ad approfondire. Ok. Anche perché io realmente, diciamo che a me rap, trap, old school, eccetera, per me era un mondo totalmente a parte. Perché io, fin da piccolo, ascoltavo techno, artstyle, hardcore, frenchcore. Ok. Per via di mio zio che ha fatto anche il DJ, era patito, di questa roba qua. Ragazzi, lui è Christian, il mio socio. Vai, presentati. Let's go. Anche lui è proprietario di Artex Studio. Rap italiano, la persona che mi ha fatto avvicinare di più è stato Fabri Fibbe e Demi Schilla. I due. E a livello di influenze invece, come dicevo, internazionali, Kanye West per me è stato un punto fisso. Ora Candy Lamar, Baby Kim, Tyler The Creator, Furtissimi. Ok. Anche sotto il punto di vista delle produzioni, no? Perché... Oh! Ah, anche i miei! Ecumenico. Cambio di occhiali ecumenici. Ancora più ecumenico di prima. Perfetto. Anche sotto il punto di vista delle produzioni, Kanye West è anche un produttore, Tyler The Creator a sua volta. Sì. Infatti nella tua musica si sente molto... L'influenza. Questa influenza e anche il fatto che ti dedichi molto alla produzione, no? Oltre che alla lirica, eccetera. Però comunque le produzioni delle tue canzoni sono anche complesse alcune volte. Sì. Allora, ti spiego anche bene. Per sé, quello che ho fatto io negli anni... Perché altrimenti non vedo niente. A livello di produzione non produco io, ma ho fatto sì che il livello delle produzioni fosse alto. E letteralmente ho iniziato a lavorare con artisti che innanzitutto studiano musica, che hanno consapevolezza di quello che stanno facendo e che hanno, come dire, un percorso artistico ben pronunciato sotto quel punto di vista. Ho letteralmente formato nel corso del tempo, dal 2021, una community anche di produttori che reputo fortissimi, che poi sono ragazzi giovani, cioè anche nel 2006, 2005, per dire. Ok. Quindi dal punto di vista di produzione cos'è che faccio? Insomma, mi metto con loro e sviluppiamo tutto insieme. Dalla produzione, test, eccetera. Certo, non produci tu in prima persona, però... Ci mettiamo ognuno del suo, sì. Ognuno del suo. Come per esempio, magari sulle top line, magari appunto mi è capitato queste settimane qua che è venuto Famu, che è un produttore fortissimo. Ok, sì, Famu. È venuto qua a Torino e letteralmente con lui ho iniziato a vedere anche per delle top line su un beat. Ci completiamo, ecco. Certo. Iniziamo con la discografia, no, trovabile di... Non leggo niente, non leggo niente. Anzi, visto che hai sbirciato, ora ti frego. Ma non ho letto proprio la... Non importa, non importa. A posto di partire dalla discografia palesata di M, partiamo dalla discografia nascosta. Parlaci di Fanku il Brasileu, DJ Totorino. Aspettate un attimo. Ok. Ti devo stringere la mano perché sei un detective proprio... No, mio Dio. Ve lo giuro. Allora, allora, partiamo dal principio. Ero su Discord, che è una piattaforma tipo Skype, la uso tantissimo, e la uso tantissimo per comunicare con i prodotti e ritirare fuori i progetti. Un giorno ero su Discord con due o tre ragazzi, tra cui Famo e Rizzi, e vengo a scoprire di questo DJ. Ok. Probabilmente brasiliano, credo. Sì. Comunque parlava portoghese. Che si chiama DJ Wesley Gonzaga. E lui fa, appunto, quel tipo di funk. Ho capito, sì, quello brasiliano proprio. Esatto, però letteralmente ha dei suoni che sono orribili, cioè stragoofi. Ok. E allora ho detto, ma cazzo, ma lui ha fatto 4 milioni in una traccia. Ho detto, io mi apro un profilo meme e provo a fare musica di quel tipo. Sì, una carriera... Sì, ma meme, ovviamente, no? Prendendo per il culo. È letteralmente a più riscontro del mio profilo SoundCloud originale, cioè non è possibile sta cosa. E vedi... Infatti ho detto, boh, nel caso fallissi con la musica, mi dedico a quello, cioè. Ora passiamo alla discografia palesata. Ok. Prima traccia trovabile è maggio 2022, no problemi, fit. LTP. LTP. Questa è la prima traccia da quando ti sei chiamato M, effettivamente? Prima di no problemi ti sorprenderà sapere che effettivamente io ho droppato un EP, prima. Ah. Sì. Si chiama Afterlight, che è prodotto da Young Byte, ai tempi. Ok. Erano tre tracce e poi, insomma, ho deciso di levarlo per vari motivi, più avanti nel tempo e, comunque, sì, il mio vero progetto poi inizia da no problemi, effettivamente. E poi abbiamo, minchia, una mega semi-posse track, possiamo dire. Fammi bene, abbiamo Nil, Kair, Divieto e... Bonsai. Ah, Bonsai, ok. Bonsai. Allora, Fammi bene, letteralmente, nasce come traccia in cui all'inizio come featuring dobbiamo esserci io e Nil, che non è Nil. Ah, non è lui. Eh, no. Vedi che ti sorprendo io. Perché Nihil, cioè, lui non si chiamava Nihil con l'acqua prima. Prima sì, però lui è Nil, è un altro ragazzo. All'inizio doveva essere una traccia in featuring tra me e Nil, che non è Nil di NCC, ma è un altro ragazzo che si chiama Nil, si chiama Andrea, che lui è molto conosciuto per la musica su SunCloud, al tempo con gli psicologi, insomma, con Kaneki, Drust, facciamo musica. E abbiamo deciso di tirar fuori questa traccia assieme, perché letteralmente avevamo scritto sullo stesso type beat, poi l'abbiamo fatto riprodurre da Bonsai. E di per sé eravamo in studio, e c'era anche Keir, ha tirato fuori un ritornello figo, e ho detto, ok bro, sei nella traccia. Ok, te l'ho posto. Quindi ho detto, boh, figo, figata. E quindi da lì è entrato pure lui. Di vieto, anche lui, ho sentito il provino, eccetera, che aveva scritto sul beat che stava producendo Bonsai, essendo un suo amico, e anche lui è giampato nella traccia. E quindi è nata questa mini boss track, e Bonsai invece l'ha prodotta. Certo, certo, sì, avete unito tutti i pezzi del puzzle. Passiamo al novembre 2022 e troviamo il primo progetto, IP Mixape, come lo chiamiamo, album? Progetto artistico, adesso spiego perché non album, perché in realtà è un album. Però adesso spiego... Ok, allora, parliamo di Draft, di cui hai rilasciato cenere prima di Lazza, e però non è andato a Sanremo. Esatto. Fit Jules. Draft è un progetto un po' particolare, perché di per sé avevo in mente di fare un album, inizialmente. Poi sono successe varie cose. Tra l'altro, cioè, letteralmente l'anno scorso, questo giorno qua è stato il giorno in cui avevo capito di... L'anno scorso, questo giorno qua. Esatto. Proprio esattamente oggi. Esatto. Questo giorno qua ho iniziato a fare le visite perché mi avevano diagnosticato un tumore l'anno scorso. Ah, ok. E quindi da lì in poi ho detto, ok, ci sta l'idea di fare un album, ma preferisco fare un progetto artistico che accompagna tutto il mio percorso. Ho detto, per non restare fermo e buttarmi nella depressione, preferisco sviluppare un progetto. Per questo non è un album, perché non ha, per dire, la traccia pop, la traccia... Sì, non capito. È letteralmente sfogo. È un flusso. Un flusso. Anche perché comunque draft, solitamente è come dire, quando tu tipo fai tante foto e poi lanci il draft. Quindi possono capitare delle foto un po' sfocate, belle. Esatto. Tra l'altro poi ho iniziato da quel periodo a lavorare con Christian, che ha sviluppato tutta la parte fotografica. Esatto, io te lo chiedo, è la parte proprio artistica fotografica, non il fatto dell'utilizzo dei colori, eccetera, no? Perché è stato fatto in quel modo, la visione artistica? Ok, allora diciamo che di per sé il progetto l'abbiamo visto, appunto, non soltanto io, ma l'ho visto anche con Christian. Ok. Ed lì abbiamo deciso di seguire un certo tipo di filone. Ok, sì. Che andasse ad accompagnare effettivamente il mood dell'album, perché per esempio l'album parte, che è molto più introspettivo, fino a finire con Il pieno sfogo e odio. Come transizione di mezzo c'è l'amore. Sì, sì, sì. Quindi vengono trattati vari argomenti che hanno fatto parte del percorso, poi tra l'altro che è mio, perché durante il percorso me ne sono successe di ogni. Quindi letteralmente è stato proprio un accompagnamento. Però vedi, diciamo, alla fine è tipo un album, però è grezzo. Esatto. Perché comunque la storia c'è, no? Hai detto che c'è questa storia, che c'è questo filone. Diciamo che è grezzo, è un draft. Esatto, è molto personale, molto sfogo. Cioè, molto sfogo e meno magari perfezionismo sotto alcuni punti di vista. Cioè, è più fare arte e buttare fuori il concetto che c'è dietro. Io trovo due freestyle. Uno è tutte puttane. Puttanate. Ah, puttanate. Perché ho scritto puttane? Tutte puttane. Vai a dormire, puttana! È diventato tutte puttane. Tutte puttane. Vabbè, cambiamo, facciamo tutte puttane. Tutte puttane. E poi troviamo GB Freestyle. Esatto. Che io ti voglio chiedere una cosa? Ma cosa dici nella canzone che non ho ancora capito? All'inizio? Sì, cosa dici? M in back vuole giga. È tutto metaforico. Perché a livello di significato non significa un cazzo. Ah, ok. Ok. Io non ho mai capito cosa dici. A livello metaforico, M in back vuole giga vuol dire M ha sempre voluto molto. Ok. Ecco, questa è l'unica barra a cui io ho attribuito poi un significato. Ok. Non è nata con un significato di per sé. Cioè, il testo sì. Le barre però M in back vuole giga letteralmente suonava bene. Infatti mi capita quando faccio sessione di mettermi lì e dire roba a caso, con dei flow, eccetera. Sì, sì. E poi magari mi esce il flow figo, allora... E perfeziono con le parole. M in back vuole giga è uscito M in back vuole giga a caso. Sparando parole a caso ho detto, però sai che posso attribuirci un significato? Esatto. Suona bene, carica. E vaffanculo allora. Esatto. Perché poi questa traccia è stata prodotta da Wears Music e Famo. Sì. Sono Wears e Famo. E video di Cristian Radu. Esatto, video di Cristian Radu. E Wears e Famo, Wears è il produttore con cui collaboro da una vita. Cioè, lui letteralmente da quando ho iniziato il mio progetto artistico, anzi, è lui che, devo dirla, mi ha dato molto, mi ha insegnato molto. E mi ha insegnato anche cosa vuol dire avere buon gusto a livello musicale. E Famo che è il ragazzo che era qua a Torino. Sì, sì. Lui nella Bounce credo che sia uno dei produttori più forti che abbiamo in Italia. A livello di video, no? Non hai fatto tanti video, no? Ok. Com'è mai questa scelta? Allora... Per fare i video musicali. Io sono molto paranoico. Ok. Amo la perfezione. Amo che le cose vengano fatte bene, altrimenti non le faccio. E mi triggerava, per modo di dire, un sacco il fatto che comunque non avessi ancora trovato qualcuno con cui sviluppare delle vere e proprie idee fighe. Quindi per ridurmi a fare il video dove ho 5-6 cristiani dietro e un po' di macchine che sgommano, eccetera, ho detto ok, no. Preferisco non pubblicare niente. Effettivamente un video ufficiale per me deve avere un'importanza di un certo tipo. Ok. Piccolo spoiler. Piccolo spoiler sta per arrivare, è un progetto importantissimo. Non dico quando. La traccia è quasi pronta. Ok. La stanno lavorando. Ci sarà un progetto cinematografico dietro, a livello video. Ok. Quindi appunto a livello di registico. Sì, ci sono degli attori. C'è appunto uno stilista che si sta occupando dei vestiti, che è appunto Anxity. Insomma, stiamo lavorando proprio a livello di team e ci lasciano un castello intero per girare. E a livello di attrezzatura abbiamo camera cinema, obiettivi cinema. Sì, sì, sì. Certo. Quindi se devi fare il video, sei il video della vita, capito. Preferisco far uscire un video una volta ogni tanto, piuttosto che farne uscire dieci che fanno cagare il cazzo per me. Stavi per dire ogni morto di papa. Ogni morto di papa. Qua poi mi sono segnato, diciamo, le collaborazioni che hai fatto. Con Danny, nel febbraio 2023, in Freaks. Poi sei apparso nell'EP, Occhi Lucidi. Dr. Sane. Allora, Freaks è un brano che è nato nel 2021, quando ho iniziato a fare musica e si sente. È stato pubblicato però recentemente da Danny, perché nel corso del tempo ho avuto dei piccoli problemi nello sviluppare il master mix, eccetera. Quindi di per sé è una traccia in cui io ho droppato questo piccolo ritornello. Ok. Me ne ero totalmente dimenticato di questa traccia e letteralmente poi appunto Danny mi fa un giorno, ah ok, guarda che la pubblico io. Ah ok. Però ho detto, vabbè, ci sta, è comunque un progetto che ho fatto. Occhi Lucidi, allora è nata così. Eravamo in studio a Milano. Ok. Ho fatto sessione per una serie di giorni con vari artisti, vari ragazzi, vari produttori, in cui l'obiettivo era letteralmente tirare fuori più bozze possibile e lavorare a delle tracce. Di per sé mi scrive questo ragazzo e mi fa, guarda io sto facendo un album, mi ha mandato una serie di bozze di beat e da lì ci siamo accordati e abbiamo sviluppato questa traccia insieme. E ho detto ok, mi fa piacere, il progetto è molto interessante, molto figo, le produzioni sono molto belle. Ho detto, ci faccio fare. Giampiamo nel progetto. E quindi poi è uscita appunto... Pensiero vuoto, la traccia in cui sei all'interno. Allora, io ho portato il sidephone ecumenico. Ok. Perché M? Oh mio Dio! No, raga. Era anche un ballerino. No, ma come hai trovato sto video? No. Ricerche ecumeniche approfondite. Non è possibile, cioè sto video non è possibile. Nooo... Aspetta! Ma nooo! Ma non ce l'ho nemmeno io sto video, mandamelo perché non lo trovo! Come cazzo fai ad averlo? Allora, M, quindi eri un ballerino o lo sei anche tutt'ora? Mi ha sempre affascinato il mondo del ballo, nel senso che io per esempio in un periodo medio ho fatto hip hop anche, poi mi ero rotto il cazzo. Da lì poi ho conosciuto appunto il mondo del caraibico perché è latinoamericano, perché tutti lo chiamano latinoamericano però quelli che fanno caraibico potrebbero uccidermi e potrei uccidermi anch'io. Ballavo in questa scuola di Borgaro e tra l'altro i video che hai trovato tu sono dei video con i primi video effettivamente in gara perché quelle erano le mie prime gare con la mia prima ballerina. Ho dovuto insomma fermarmi per via del covid, tra l'altro mi ha fatto incazzare tantissimo perché io avevo iniziato, perché lì si può ballare o in coppia o shine, shine sarebbe da solo e poi far le gare appunto in tutte e due. Avevo iniziato il mio percorso di shine e avevo fatto quei due mesi di allenamento, avendo già delle basi, ho gareggiato e nella mia categoria io ero arrivato anche secondo agli italiani a Roma. E da lì è subentrato il covid e è andato tutto a puttane. Vado a ballare spesso, adesso non più di tanto però andavo a ballare spesso in locali cubo, penelope. Eh minchia, valli latini eh. Io ti dico che da quando... Nei locali latini eh? God damn minchia. Poi sai pure ballare, sei il secondo a Roma eh. Ti faccio immaginare come finivano le serate. Parlaci di come è nato questo studio. Allora, parliamo di Artex Studio nella più totale sincerità. Io avevo uno studio con dei ragazzi appunto che hai anche intervistato che sono Neil e Cair. Ok, dell'NCC. Sì, sì. Ho tirato su quello studio lì, appunto quando avevo iniziato a fare musica, da un'idea all'inizio di Man Hill. Ok. Abbiamo tirato fuori questo studio e abbiamo iniziato il nostro percorso artistico. Poi è subentrato Cair. Eravamo con una videomaker che si chiama Melina, con questa ragazza qua che poi ci ha lasciato prima di tutti. E subentrato Siki, insomma sono successe varie cose. Da lì in poi Cri torna dalla Germania, perché lui ha lavorato un tot in Germania. Io e lui ci conosciamo da un sacco di anni, perché lavoravamo insieme da tempo casa. Oh minchia. Senti, mi ha sorpreso che non ha trovato foto o... No, non sapevo sta cosa. Torna Cri, dalla Germania, e lo vedo più volte in studio dall'altra parte dell'NCC. Da dopo che avevo finito il percorso di chemio, mi ero un po' allontanato dal gruppo, neanche magari a farlo apposta, però insomma ho sviluppato dei buoni rapporti appunto con Christian e con i ragazzi con la quale lavoro a livello di produzioni. E non lo so, nel senso che ci sta, sai, ognuno può prendere le sue decisioni. Ti sei sentito di prendere un'altra strada. Esatto, bravo. E da lì in poi mi sono visto con Christian, Cri aveva già in mente di tirare fuori uno studio o qualcosa, e allora abbiamo detto ok, proviamo ad andare a vedere qualche posto e vediamo cosa succede. Abbiamo trovato questo posto e ora ti trovi qui e pian piano lo stiamo completando. Da poco comunque, da poco tempo. Sì, sì, sì. E il motivo per cui si chiama Artec con la E e la C maiuscola è perché è Emma e Christian. Sì, cioè è proprio easy. E quindi abbiamo tirato su questo studio dove all'interno appunto, a parte occuparci di produzione, mix e massa, per dire non mi metto io a occuparmi dei brani, ma lo fanno dei fonici esterni professionisti, dei produttori che appunto, che sono anche i ragazzi con cui lavoro io, che vengono qua e fanno sessioni insieme. Quindi l'obiettivo nostro era cercare di portare qualcosa di qualitativamente alto, ok? Di portare la qualità all'interno di un posto e dare alle persone che venissero qua dentro l'opportunità di sviluppare un progetto al massimo delle possibilità. Quindi per dire, non mi metto io a lavorare personalmente, ma ci sono dei ragazzi, dei fonici che vengono qua, lavorano con gli artisti, dei produttori che lavorano con gli artisti. E stessa roba dal punto di vista video e foto. Lui lo fa da quando era bambino, non so quanti anni di esperienza nel settore. Quindi abbiamo questa sala qua, che è sala rec, mix e master, è produzione. Poi c'è la sala di sopra che sta a editing. La sala dall'altra parte che è in costruzione, che è la sala con l'infinity wall. Voi date gli strumenti. Esatto. Poi ovviamente l'artista ci deve mettere del suo, ma noi gli diamo tutti i presupposti per poter realizzare con appunto dei professionisti. Quindi anche produzioni, beat, tutto. Tutto, tutto. Ma produzioni anche di ogni tipo, nel senso non soltanto trap. Per esempio abbiamo dei ragazzi che vogliono fare reggaeton, pop punk, indie, abbiamo delle persone che suonano, gli strumenti. Quindi non è una roba VST che piazzi due o tre note sul pattern. C'è chi suona, si fanno delle sessioni importanti per far sì che appunto un artista possa sviluppare al massimo delle sue possibilità la canzone senza scuse di ogni tipo. Ora vi chiedo, a tutti e due, i due imprenditori dell'Artec, cosa augurate ad Artec nei prossimi cinque anni? Io vedo il monopolio italiano e forse tra cinque anni siamo già anche in Europa con almeno uno studio. Questo è la mia cosa. E in realtà come intendo come monopolio italiano non mi riferisco che ci sono io a capo, lui a capo, che dirigiamo tutto da questo punto di vista. Ma che tutti gli artisti e le persone con cui collaboreremo saranno così forti che saranno proprio i migliori in Italia e anche già quasi all'estero. Sì letteralmente mettere il marchio Artec, io ce l'ho al microfono, l'obiettivo sarebbe mettere il marchio Artec ovunque a livello qualitativo. Quindi per esempio magari ci saranno sicuramente artisti che passeranno di qua che magari hanno spaccato o artisti che appunto dovranno spaccare e far sì che da qua dentro esca la qualità. Far sì che da qua dentro appunto esca il massimo della qualità e venga portato il nome anche fuori. Così da creare appunto vari tipi di studi anche in giro con l'Italia. Farlo diventare un verbo quasi franchising. Certo ma poi se è una cosa a 360 gradi anche a livello di generi musicali perché si sa che all'estero non esiste soltanto la trap, il rap. Comunque la musica elettronica la musica elettronica spinge. Io sono qui con musica elettronica, vado sempre a lavorare anche tipo in discoteche o in locali che fanno musica elettronica quindi sono già anche portato. M. Descrivi in tre aggettivi M. Come si, vabbè, paranoico. M. Puntiglioso e euforico. M. Euforico? M. Sì, sì, sì. M. Qual è l'aggettivo che daresti alla tua musica per definirla? M. Priva di barriere, senza limiti. M. E aperta a tutto? M. Sì, aperta a tutto ma anche a tipi di sound o quando magari lavoro una traccia non mi capita di partire con un'idea e sviluppare quel tipo di idea con i classici suoni. M. Anzi, ci lasciamo trasportare molto per esempio dal sound design, quindi magari prendiamo certi tipi di percussioni, insomma, andiamo poi a comporle e letteralmente lavoriamo tanto a livello di sound design affinché magari venga particolare e abbia quel tocco in più di personalità. M. Ok, ma una tua canzone in generale come nasce? Ora ci hai spiegato questo modo, ma può nascere in vari modi? No, quindi è capitato che nasca da un testo o semplicemente da un'idea o da una dramma o non so. Come nasce una canzone di M? M. E di M o di M? M. In realtà in più modi, nel senso che per esempio mi è capitato nel periodo chemio, in cui magari andavo a fare le chemioterapie per non cercare di distruggermi all'interno dell'ambiente, magari scrivevo, buttavo giù bozze, buttavo giù idee. M. E poi arrivavo a casa, magari anche tutto sfatto, però mi mettevo sul disco con i produttori e capitava che magari, insomma, proponevo l'idea, il progetto e poi si sviluppava quella produzione sotto. M. O altre volte magari scrivo su dei type, perché i type comunque sono fondamentali. M. Certo, sono le reference, sono le reference, parti da là. M. Scrivo sui type e poi sviluppiamo assieme meglio testo, top line e produzione. M. O addirittura a volte parto da delle produzioni e delle idee che hanno appunto i produttori. M. Quindi magari arriva a famo, mi dice guarda, ho fatto come è capitato, sto beat qua, proviamo a utilizzarlo. M. Poi magari il beat nel corso del lavoro alla traccia si modifica, stessa roba alle top line. M. Il metodo che ho sperimentato, che è quello che mi piace di più, è fare la sessione fatta di pari passo tra produzione e voci. M. Nel senso che capita che magari appunto c'è il produttore in studio, lui tira giù delle drums, io inizio a reparci qualcosa sopra, poi lui sviluppa la melodia, poi magari reworkiamo qualcosa, livello di cantato e si sviluppa insieme. Chi sarebbe? Cosa sarebbe? Dipende dai punti di vista. M. Senza la musica. Senza il fare musica, cioè quindi senza cantare, senza... M. A livello produttivo. Esatto. M. Allora, di per sé, fare musica per me è lo sfogo più totale. Quello che dico in musica spesso non riesco a dirlo magari in un discorso, non riesco a parlarne. M. Soprattutto mi piace trattare tanto magari argomenti incentrati per dire sull'amore, perché nella mia vita privata sono molto, molto freddo, anche se do l'impressione che non sia così, poi dipende da persona a persona, però spesso sono molto freddo. Tendo molto a tenere quelle barriere, no? Questo dovuto comunque magari a esperienze passate, quindi... Nella musica invece riesco a essere più me stesso, riesco a tirare fuori tutto quello lì. Quindi io la musica la vedo come uno sfogo e come un mettermi alla prova per far sì che io riesca a dare anche un messaggio alle persone e magari riescano a rivedersi nella musica. Certo. Perché io anche da ascoltatore molto spesso mi ritrovo in dei brani, insomma mi sento parte di alcuni brani che ci sono, ok? E mi fa magari piacere sentirli, a volte provo delle emozioni. Mi piacerebbe che quella mia musica fosse lo stesso. Quindi senza la musica non avrei questo tipo di sfogo, questa possibilità. Ad esempio nel ballo non hai trovato lo stesso sfogo? Sì, però ho trovato lo stesso sfogo ma senza quel tocco di personalità che posso dare per esempio alla musica. Perché nel ballo letteralmente comunque mi sono sempre un po' sentito limitato e ripeto un discorso questo che vale per me non c'entra nulla con il mondo del ballo sicuramente. Questo è come mi sono trovato io. Letteralmente nel ballo mi capitava di magari dover dar conto comunque a un'altra persona con la quale sto ballando, di dover dar conto al fatto che magari nelle gare ci siano delle regole da rispettare. Io quando faccio musica me ne frega un cazzo delle regole. Io faccio quello che voglio tirare fuori. Se poi la roba non diventa commerciale o la roba non passa il radio a me non frega niente perché io sto facendo musica per fare arte. Quindi dal momento in cui io faccio musica per fare arte quello diventa il mio processo creativo più totale a livello di tocco personale e il resto viene dopo. Per me c'è quello. Per esempio il periodo chemio la musica mi ha aiutato tanto ad affrontarlo perché comunque mi ha tenuto distante da tutte quelle paranoie che uno si può creare durante il percorso. Perché comunque sono sempre mesi e mesi e rimani lì che dici sai un po' cosa faccio. Vuoi aggiungere? Vuoi... Diventare ecumenico? Sì. Vuoi terminare questa intervista ecumenica con una frase d'effetto, una frase finale, delle parole finali da lasciare a questa intervista così che poi tu quando la rivedrai tra qualche anno dirai guarda, guarda cosa ho detto. Mede il futuro. Lo dico in questa intervista ecumenica. Farai grandi cose, spaccherai, arriverai in alto e porterai una nuova influenza. Almeno in Italia, minimo. Direi che siamo arrivati alla fine di questa intervista ecumenica. Io sono Elty Fresh. Lui è M. Ecumenico. Ecumenico. Ave. Ciao! La copertina l'avete fatta? La stiamo facendo. La copertina l'avete fatta? La copertina l'avete fatta? Grazie a tutti